Sei già abbonato a Rivoluzione? Viviamo in un'epoca di grandi sconvolgimenti e ingiustizie, ma anche di lotta e ribellioni. Chi ha tutte le ricchezze controlla anche i mezzi di informazione. Serve una voce indipendente. La voce dei lavoratori, dei giovani che lottano per cambiare le cose. Rivoluzione è questa voce. Un giornale autofinanziato che analizza gli avvenimenti in Italia e nel mondo. Pubblica testimonianze da scuole, università e posti di lavoro. È in prima fila nelle battaglie per i diritti. Approfondisce la filosofia marxista e la storia dei movimenti rivoluzionari. Rivoluzione è il giornale di sinistra classe Rivoluzione, la sezione italiana della tendenza marxista internazionale. Un'organizzazione che in tutto il mondo lotta contro il capitalismo. Abbonati per ricevere la copia digitale e cartacea a partire da un euro al mese. Anche insieme alla rivista teorica Falce Martello. Vai adesso su www.rivoluzione.red slash abbonamento